... Daniele Magneto Alietta qui a Gorla Maggiore ha fatto la differenza sull'ultima salita. Quarto centro stagionale, raccontaci l'ultimo tratto. All'ultimo chilometro sono rimasta un po' indietro, poi sono riuscita ad andare avanti per la salita, l'ho presa tutta in testa e ci ho fatta vincere. Tra due settimane il campionato italiano, un pensierino? Eh sì.